Non è successo con Amleto, non è successo con Giulietta e Romeo e non è successo neanche con Favola, è successo con il Don Giovanni. Vivere è un abuso, mai un diritto. È uscito finalmente il testo, l'e-book. Quindi, uno, se vi è piaciuto lo spettacolo, comprate il testo. Due, se non vi è piaciuto lo spettacolo, comprate il testo. Tre, se non avete visto lo spettacolo, potete comprare il testo. Quattro, se neanche ci avete pensato di vedere lo spettacolo, comprate magari il testo. Buon testo.